L'azienda energivora ha anche degli obblighi. Un obbligo fondamentale è quello di verificare quali sono i suoi consumi, per questo è obbligata a svolgere una diagnosi energetica nell'anno successivo all'iscrizione alla cassa. Come esempio pratico, un'azienda che si dovesse iscrivere agli energivori nel 2019, quindi per quanto riguarda l'energia nel 2020, dovrà svolgere la diagnosi energetica nell'anno 2021, riferita ai consumi del 2020. La diagnosi energetica non può essere fatta da qualunque persona, ma deve essere svolta da personale determinato dal decreto stesso. La diagnosi energetica può essere svolta o da aziende definite ESCO, ma ESCO certificate secondo la norma 11.352, o da personale definito esperto gestione dell'energia, o meglio da EGE certificati secondo la norma 11.339. Questa diagnosi energetica deve essere svolta secondo dei parametri determinati dal decreto 102.2014. La diagnosi energetica, fatta dalla ESCO o fatta anche o fatta da personale EGE, deve essere poi successivamente caricata nel portale dell'Enea. Lo svolgimento della diagnosi è un'opportunità per l'azienda per poter capire come viene utilizzata l'energia che acquista dalla rete, energia elettrica, gas ed altri vettori energetici. Grazie. 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 Grazie.